ben tornati a parlare di adobe ancora nel tutorial precedente abbiamo visto le varie finestre la timeline e abbiamo anche creato un menu su un file video su un file video quindi a questo punto possiamo andare avanti per conoscere meglio le tutte le funzioni di adobe ancora e vediamo le librerie chi non avesse le librerie e vuol dire che non sono state installate e quindi vi rimando il mio sito per dove spiego come scaricare il file e installare le varie librerie nel programma di adobe ancora allora abbiamo anche visto sempre precedentemente nell'altro tutorial come trasportare il menu o il sottomenu eccetera in adobe photoshop modificarli a nostro piacimento e riportarli in adobe ancora ma nulla ci vieta di modificare il menu anche qua da questo programma infatti attraverso le librerie vedete contengono i vari menu poi abbiamo i pulsanti che possiamo inserire tranquillamente adesso vi faccio vedere come poi degli oggetti anche delle foto delle cornici eccetera dei testi già formattati e adesso vediamo come fare dunque intanto cominciamo per esempio da un titolo da una scritta questa scritta io posso andare negli stili vedete dove c'è la t vedete l'iconcina con la t vuol dire che è un testo è uno stile di testo prendiamole uno ad esempio questo clicco due volte vedete il nostro testo si interforma nello stile selto naturalmente tutti possiamo anche fare questo vedete adesso torno indietro poi da qui avete già capito avete già imparato a caricare un menu anzi lo facciamo subito prendiamo questo party per esempio carichiamo ed ecco qua poi dopo abbiamo imparato anche a inserire i nostri capitoli eccetera adesso vediamo come modificare alcune cose andiamo per esempio in pulsanti prendiamo ad esempio questo pulsante lo trassegniamo col tasto sinistro del mouse lo aggrandiamo e questo è un vero e proprio pulsante a cui possiamo fare un collegamento per un capitolo eccetera poi andiamo a vedere un altro questo andiamo e qui possiamo trassinare vedete un capitolo come abbiamo fatto in precedenza togliamo per cancellare le ultime cose fatte dovete spingere il tasto CTRL e Z ritorniamo al nostro menu principale poi andiamo nel set per esempio intrattenimento andiamo all'ultima icona vedete i livelli di sostituzione e abbiamo una cornice la clicchiamo due volte e viene inserita nel nostro menu quando viene inserita un oggetto molto esteso molto grande più del nostro menu e non possiamo vedere i rettangolini di limitazione per come si dice per adattare la nostra cornice al nostro menu dobbiamo andare ad impicciolire prima ecco qua prima il nostro menu e poi impicciolire ecco qua adesso lo sposto e lo mettiamo qua ritorniamo al 100% e qui abbiamo inserito una cornice con una foto interna ora qui possiamo inserire una nostra immagine e l'immagine si adatterà a questa cornice quindi possiamo prima importarle le nostre immagini come risorse per esempio prendiamo questa 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 e questa qui vediamo vedete si sono inserite nella finestra del progetto poi prendiamo questa immagine la teniamo più tutta il tasto sinistro del mouse la trassiniamo dentro la cornice e come vedete si adatta alla cornice possiamo eliminarla poi abbiamo anche questa per esempio guardate trassino trassino un'immagine e guardate come vedete l'immagine si adatta allo stile di questa finestra eliminiamo andiamo a qualcosa altro ecco guardate anche questa inseriamo un'altra immagine guardate che bell'effetto quindi come avete capito da qua noi possiamo modificare qualsiasi menu con dei bellissimi effetti che sono in dotazione delle librerie cancelliamo ora vi faccio vedere andiamo nella nella creazione di sottotitoli dunque per creare i sottotitoli dobbiamo innanzitutto creare una timeline sottotitoli ora qui vedete nella timeline abbiamo il video l'audio del nostro filmato se andiamo sotto e clicchiamo il tasto destro del mouse dice aggiungi traccia audio noi andiamo ancora sotto ancora e dice aggiungi traccia sottotitoli inseriamo la traccia sottotitoli e qua possiamo inserire dei nostri sottotitoli dunque per inserire i sottotitoli dobbiamo abbiamo due sistemi o li creiamo manualmente o li importiamo da un file text adesso vi faccio vedere come crearli manualmente ci posizioniamo andiamo prima innanzitutto nel monitor ci posizioniamo nel punto dove vogliamo inserire il sottotitolo andiamo avanti ad esempio qua dobbiamo andare nel testo la t di testo poi posizionarci nel fotogramma e scrivere ad esempio possiamo inserire una frase qualunque ciao ci vediamo domani poi ci spostiamo ancora inseriamo ancora la t nel testo ok a domani non ha nessun naturalmente riferimento al video che stiamo vedendo ma proprio per fare un esempio ecco qua vedete abbiamo questi due segnetti se noi aumentiamo la nostra timeline andiamo indietro ecco qua questi sono i nostri sottotitoli andiamo sotto cioè rimettiamo la timeline un po' più stretta e vediamo vedete si ho trassino ecco qua possiamo vedere ok allora un'altra cosa che volevo dire per vedere nel monitor il video possiamo anche premere la barra spaziatrice se lo premo il video va avanti se lo ripremo si interrompe il video quindi abbiamo visto come inserire un sottotitolo naturalmente i sottotitoli se noi ci clicco sopra ecco vedete qua abbiamo se guardiamo la parte destra la proprietà il testo e possiamo scrivere anche qua poi abbiamo la durata due secondi l'attacco inizia da 1,15 fino al stacco 3,15 poi possiamo andiamo a vedere andiamo proprio sopra ecco possiamo e abbiamo tre tipi di vendiziatore gruppo 1 gruppo 2 vedete è diventato quello rosino e gruppo 3 e torniamo al gruppo 1 poi abbiamo traccia normale spesso il risetto qui poi vedete quello che vi serve a voi o nessuno poi possiamo aumentare la durata io qua scrivo 3 vedete? allora qui adesso prima era due secondi adesso l'avrò per tre secondi questo naturalmente ripeto è sempre un esempio banale ma per farvi capire come funzionano i sottotitoli adesso cancelliamo questi due sottotitoli clicchiamo se riesco sopra cancella e quando diventa quella specie di di e rovesciata con la e con rossa possiamo cancellarle ora possiamo anche inserire dei sottotitoli attraverso un file di testo io ne ho già preparato uno vi faccio vedere com'è allora file ah scusate andiamo invece qui nei sottotitoli clicco col tasto destro importo sottotitoli script testo se andiamo a vedere dove l'ho messo qua prova testo è un servito vedete capitolo 1 clicco ok ecco qua il mio testo sottotitolo prova adesso andiamo a vedere il testo guardate bisogna inserire un numero iniziale che per esempio può essere cominciare da 1 io ho scritto 2 volte 1 ma può essere 2 che è il secondo sottotitolo e 3 poi mettere questa sequenza di numeri che non sono altro che le ore minuti secondi eccetera dove va inserito il sottotitolo nella timeline ad esempio qui sono partito da 0 e fino a 6 secondi il sottotitolo capitolo 1 poi da 6 secondi a 12 secondi sottotitolo prova infatti se noi andiamo a vedere ecco qua i nostri due sottotitoli ne prendiamo 1 andiamo a vedere vedete durata 6 secondi da 0 0 0 a 6 andiamo a prendere l'altro da 6 0 0 6 a 0 0 12 naturalmente diventa un lavoro un po' un po' lungo io sinceramente non l'ho mai fatto però se volete provare potete scrivere da questo file test ad esempio in una presentazione che poi vedremo come farla di fotografie dandogli a ogni foto il tempo di 6 secondi per visualizzarla possiamo scrivere i sottotitoli per ogni foto ogni 6 secondi quindi crearlo per esempio in Excel e poi trasportarlo e poi salvarlo come file text fate la prova e vedete che funziona il tempo di 15 minuti sta per terminare vi rimando al prossimo tutorial dove impareremo a inserire una timeline audio di un'altra lingua e creare un bottone per poter seguire appunto la lingua o italiano o inglese o quella che vogliamo noi quindi ci vediamo al prossimo tutorial a presto a presto